Il tema di presa è un'invito di vita, la mia Alberto Marelli è stato inizialmente a un sindaco di vita, e la mia professione è un sindaco di vita, sicuramente un momento molto bene, ma altrettanto è una di grande responsabilità. Io intanto vi ringrazio, grazie a tutti i vice che non ha rilasciato così. Grazie a tutti. dal nostro nostro nascono i miei amici, ci siamo andati a una colazione di musica, anche nel nostro percentuale, ho avuto un po' di prezzi e roba che io ha restato in un'ora di più, e non so, ma non è un'ora di più, grazie a tutti i giochi, grazie a tutti. Ci sono le attenzioni di tutti, perché non si è un'ora che toglie le relazioni, ma non è strassi ma non è un'ora di più, ma guardi, sempre faccio frasi fatte, e sempre i loro fatti, che non sentono sempre bene per rispondere, io sempre voglio dire tutte le cose che vogliono, comunque scrivere gli altri, che tutti i saluti in libertà, benigni a tutti un Paese che hanno fatto bene la mia persona, e templi, ma anche le nostri, le nostri, le nostri, le nostri e le nostri, Grazie. Grazie a tutti e grazie a voi della stampa che si presenta molto bene.